È noto al grande pubblico per il ruolo di Valerio Bettini nella sopopera Cento vetrine. Ha lavorato come doppiatore in molte sopopera come Febbre d'amore, in cui doppia il personaggio di Victor Newman e Terra Nostra, in cui doppia il personaggio di Gumerchindo. Sergio Troiano ha anche prodotto e interpretato il film Portami via, che ha vinto diversi premi al Festival di Venezia. Ha partecipato alla prima serie di un medico in famiglia, nel ruolo di Sergio. Nel 2009 è candidato alle elezioni europee, in quota socialista, per la lista sinistra e libertà. Ha quattro figlie.